EXPEDITIONS CONCHISTER EXPEDITIONS CONCHISTER EXPEDITIONS CONCHISTER EXPEDITIONS CONCHISTER EXPEDITIONS CONCHISTER Allora non so se questo attiva già direttamente l'evento o se dobbiamo andare da qualche altra parte non lo temo che quello attiverà l'evento Allora possiamo vedere se abbiamo qualcosa da setupare perchè abbiamo fatto un po' di esperienza però abbiamo dell'attrezzatura per caso che mi ha raccolto o no? Allora c'è Kintero che ha un lieve trauma non so se sarà equipaggiabile se potremo schierarlo a parte che nella fase di schieramento ci fa spostare l'attrezzatura e tutto in caso dovremmo sostituirlo con Ortega probabilmente che è solo un uomo d'arme ma ci può stare oltretutto ehm sono deciso se tenermi ancora un po' di esperienza allora sono tutti uomo d'arme tranne qualcuno che è veterano per farlo salire quello abbiamo bisogno di 600 punti esperienza ok direi che anche no 1000 ah no 300 600 ok sono 300 punti no però mi farebbe salire se fosse solo 300 punti in più ho proprio bisogno di 600 punti nuovi probabilmente guarda so che prima andavo a 290 e non mi faceva passare di livello nessuno per cui no mi servono 600 per andare a quello dopo quindi mi converrà a far livellare delle altre gente mi penso che portare uno dei livelli assurdi però non vorrei farlo adesso voglio vedere se alla fine cioè se riusciamo a cavarcela così e in caso ottenere poi l'altra esperienza per vedere un attimo come gestircela dopo entrambi gli scontri nulla vediamo un attimo come ci fa schierare quando c'è tutto il pevere sul mercato dove si trovano Isabella e Juan Noriega con alcuni dei suoi uomini quando vede che ti stai avvicinando corre verso di te ce l'avete fatta il palazzo è salvo? il palazzo è salvo il governatore è vivo e in buona salute lei sorride sapevo che potevate farcela in realtà è stato estremamente arduo ci sono molti 3 anni e voi avete tenuto la fortezza? è stato un bene che fossimo lì hanno colpito duro ogni entrata hanno anche avuto l'accortezza di portare delle scale d'assedio ma li abbiamo presi li abbiamo battuti e ricacciati indietro anche Umberto sta bene ah ok quindi siamo a posto cosa facciamo adesso? una rialza la spada e punta verso il molo abbiamo ricacciato il resto degli uomini di Leandra verso il molo i miei esploratori hanno individuato Leandra in persona in mezzo a loro se riusciamo ad arrivare a lei daremo il colpo di grazia a questa ribellione se il resto dei suoi uomini non si arrende allora uccideremo anche loro allora cosa stiamo aspettando? facciamo la frenita prendete l'iniziativa Capitan Mazetest dai vi seguiremo ovvio ah ok ma ci fa salvare di nuovo qua in caso allora facciamo anche salvare qua intanto c'è un bel salvataggio di backup mmm facciamo un nuovo salvataggio di backup is back 2 lo chiamiamo quello si chiamava is back 1 ok allora e vediamo un attimo qua ci sono delle barricate quindi sono barricate là dietro che si chiamava tu e Noriega con i soldati rimasti marciati in assetto da guerra lungo il molo Leandra Viscaino e i suoi ufficiali hanno montato una piccola postazione strategica vicino al molo con un tavolo ricoperto che devono aver preso dai banchi dei pesci vendoli nelle vicinanze e i loro soldati hanno preso posizione dietro le casse di barri di cibo e rifornimenti scaricati dalle navi Leandra venite fuori davanti a me ho qualcosa da dirvi prima di uccidervi Leandra sguaina la spada ed esce dalla formazione difensiva ti rivolge un sorriso sprezzante avete combattuto bene al palazzo devo ammettere che non mi aspettavo che avreste difeso anche la fortezza siete in vantaggio ma non basterà è stata l'arroganza a condurvi qui in mazzetese io sarò felice di essere la vostra nemesi corri scappaci al nemesis Isabella fa un passo in avanti con il dito puntato contro Leandra in segno d'accusa quante persone innocenti sono morte per la vostra avidità la vostra megalomania avete creato in amicizia e mancanza di fiducia là dove avreste dovuto creare concordia avete attirato con l'inganno centinaia di fieri taino in una trappola di morte e avete assassinato coloni spagnoli queste persone sono venute qui per vivere una nuova vita e voi avete portato loro terrore, angustie e morte Leandra a serrare le labbra in segno di disgusto per essere nata in mezzo al conflitto tanto maltrattata da tutti siete sorprendentemente testarda nella vostra richiesta di pace quando è che capirete finalmente che nessuno vuole la vostra pace come del resto nessuno ha mai veramente voluto voi eh? pensate che Andres vi abbia rapita perché amava vostra madre? vi ha presa come un premio, un oggetto raro vostra madre non è morta di Sifilide fu Andres a ucciderla quando venne a supplicarlo di restituirti poi la ho twist ma io non mi ricordo cosa era succeduta solo all'inizio quindi, allora Andres a rapita perché amava vostra madre ma Andres ha ucciso la madre di ehm Qua chi si chiama lei? Isabela Rimango in silenzio, lascio che non intervengo, scusa Isabela rimane inchiodata sul posto tremante Ho perdonato mio padre per quello che ha fatto L'Andra sogginia ancora più freddamente Vostro padre Chiunque fosse vostro padre di sicuro non era Andres Per questo i Taino non vi vogliono, il vostro concepimento non fu consensiente Naturalmente voi lo sapete, sembra però che il vostro caro capitano Mazzetes non ne sia al corrente Non gli avete affidato questo segreto, vero? Mi chiedo come si senta al riguardo La seconda Non significa nulla per me, Isabela è un bravo soldato e nulla di quello che dite potrà cambiarlo Isabela è sul punto di scoppiare e piange Mi dispiace così tanto, Julius, io ho mentito a tutti Per tutta la vita Anche a Umberto, anche a me stessa Prego? Dovrei scegliere qualcosa che non sia la prima opzione Perché dovrei ucciderla o cosa? Non importa, voi siete mia amica e sottoposta, è ora il momento di combattere Siete pronta? L'era del Salaschino vi saluta con volto impassibile Sì, capitano Non riega appunto minacciosamente la propria spada contro Leandra Siete finita, Viscaino Ci avete presi in giro tutti E avete approfittato della nostra ospitalità e generosità per ingannarci e attaccarci Ora basta, la finirete qui Il vostro momento è passato, vecchio Che esistenza miserevole avete condotto negli ultimi anni Un comandante che una volta era così fiero e impavido Che ha conquistato tutta Ispaniola E ha represso brutalmente E in modo immediato ogni accenno di rivolta E ora eccovi qui, nascosto dietro la persona che è venuta a prendere il vostro posto Che cosa potreste sperare di ottenere qui, Leandra? Si capisce benissimo che non state combattendo per la libertà dei Taino Domani sarò il nuovo governatore di Ispaniola L'anno prossimo sarò Viscaria di tutte le Americhe Ah, lo dice lei questo E pensate che Re Carlos vi concederà la sovranità su tutto il nuovo mondo Se prendete Ispaniola con un golpe violento? Sua Maestà saprà quello che gli scriverò Che Bernardo de Manzanedo era un villano traditore Che cercava di usurpare il suo regno nel nuovo mondo Chiunque menta a Carlos e cerchi di non farmi passare Di farmi passare per una specie di traditore Non vivrà abbastanza da inviare il proprio messaggio Noriega sospira Ho deciso che ho visto abbastanza sangue E che non voglio più essere responsabile di nessun'altra morte Ma ve la siete voluta E alla fine dovrò spargere sangue in qualcuno Il vostro Leandra sbruffa con la risufficienza e si volta su se stessa Tornando dietro le postazioni dei suoi uomini Quando è libera alza la mano con la schiera ancora girata verso di te E i suoi aprono il fuoco Posso prendere i miei sei tipici Eh no L'altro malato Devo cambiarlo Aspetta un attimo Togliamo tutto a lui Allora via di qua Via di qua E prendiamo un soldato Vediamo Isabela Allora lei è di grado 3 Quindi È messa bene Ah Ok Ci sta dai Non è di livello altissimo Ma andrà bene Ma così così toglierei però l'attrezzatura di attacco al medico Che tanto il medico non dovrebbe attaccare granché Allora scusa A Isabela quanto manca qua di 4 Togliamo 4 al medico E diamoli a Isabela Ok Ok E ci proviamo Ma adesso ho già passato dieci minuti solo per aver letto l'introduzione al combattimento Mi sa che questo Episodio sarà lungo Come lo scorso Allora 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 Elimina tutti i nemici Ok Qua sono Due là Che sono Allora Questo è un Cacciatore Quindi Spara Questo è il soldato veterano però Allora Qua c'è un Taino nascosto Mi sa Trappoliere Questo è un medico vero Sì Veterano Questo è un cacciatore Questo è un guerriero Soldato Esploratore Ok Ok E la situazione attualmente è che Allora Hanno Hanno una barricata là Che in realtà potrei sfruttare io con i miei Cacciatore Sono 3 6 E 2 8 Mentre invece con i soldati vado da questo lato qua Allora Due di qua e uno di qua manderei Sì Allora Metterei i cacciatori Questo è il dettore Questo è il cacciatore Allora Quello che va di là ci metterà parecchio tempo Quindi mi sa che Allora Non chiedere Siamo così E se mettessi delle barricate Posso mettere delle barricate Posso mettere solo dove sono in questo momento Non so se in questo caso Sia più facile tenere una strategia difensiva O Andare alla carica Evidentemente potrebbe avere più senso stare sulla difensiva Però non riesco a bloccare tutto qua Credo che questa volta Ce la proveremo a fare Senza barricate o altre cose Ho paura solo che vengano tutti da questo lato Ma se invece io spingo tutti in questa direzione Almeno posso stringere di là E dall'altro lato ci metterò tanto tempo ad arrivare Allora Facciamo così Meglio non separarsi troppo Perché poi se mi prendono male sono Finito Allora potrei barricare questa zona qua dietro O comunque mettere dei triboli se arrivano Ma non faranno mai il giro da dietro se io passo di qua Se io mi avvicino in qua cercherò di tutti E vi passare da questo lato E qua posso stringere in qualche modo Proviamoci Ah no Cos'è non è ritirarsi dal commettere? Ah no ho provato molto male Fasi preparazione a posto allora A andare qua Vediamo chi vedo Allora vedo solo lui in par... Ah questo lo vedo bene Questa copertura parziale Questo lo vedo bene Quella copertura parziale Ce n'è un altro a dietro che non vedo No infatti Quella ha una precisione bassa Ehm Non posso usare quella Proviamo a colpire lui allora Preso Buono Poi altro cacciatore Ne ho dirlo su lui Cavolo Niente Vabbè Allora Questi voglio che corrono qua Il più possibile Il più forte possibile Ah di là si passa anche mi sa Quindi ne metto uno anche di qua Forse è Isabella questa Sì Per il medico lo metto qua Vada Prendi stato e possiamo anche nascondere Sì Sì Mancato ma d'altronde è un dottore Eccolo guarda che passato Bomba fumogena Ehi al dottore Non sarà facile no Aia Allora intanto con il medico facciamo La cura su di lui Allora poi Tu Astrodisci questo Un buon malus Le andiamo addosso con l'altro A cavolo Ce n'hanno dei triboli Ehm Allora là ce ne passa solo uno per volta Allora ci metto questo mio a bloccare E facciamo una difesa E facciamo una difesa perfetta Con questi Allora là C'è una brutta Storia Quella è una copertura Parziale Sono molto poco visibili Quelli là Perché ci sono messi Andiamo su questo Quanto è 85 Proviamo il doppio Ok uno è entrato Ah l'altro no Abbiamo questo Ok uno è entrato Se entra l'altro Yes Lo sto reddito per niente Ma è andato È andato Ok Allora Adesso sono solo più 7 Ah questa è una più niente a fare Questa è una più niente a fare Però possiamo avvicinarci qua Cavolo i triboli Niente Cavolo altri triboli Questa non si può più muovere Questa si può ancora muovere Ok Così se un altro Prende il tiro di opportunità Sperché si muove l'altro Ehm Ehm Gli altri per ora Li lascio qua Non voglio metterli in mezzo ai piedi Che si rischino qualcosa Insomma Ah quello è il retro E quello ha Armi a distanza Quello c'è qui Ah no ma si passa anche di là Eh mi sa che si Mi sa che c'è anche il passaggio là Ah Isabella Kaiser Niente Oh eh si è messi malino in questo momento Allora non so se mandare il medico là Per tirare Per ressarla O cosa Allora i tiratori non hanno bisogno di niente Direi che Allora su questi Sono tutti Sul fumoso Quindi andrei Sia con l'uno Che con l'altro Su quello Anzi Facciamo avere Maggiore precisione Ah Ha bloccato Niente Allora Con lui Farei che Stordire questo Ok Qui al retro Il fatto è che se il medico si mette là Poi è sotto Pressing dal capo là Dal tenente soldato Sì Andrò a tirare Allora su Comunque Dai Non reggerà molto Penso Però Ce la fa No Come Ah si Ah no Però non ha stordito Oddio Posso lanciare Una lanterna Di fuoco Sì Ok Ho fatto bene A tornare in copertura Perché Cavolo Adesso stanno passando Da dietro Tutti stanno passando Da dietro Ha usato il movimento Tattico Per uscire Dal mio Danno D'aria Cavolo Allora Tu Cura un po' Isabella Tu Riesci Non vedo niente Di cosa succederà Se mi muovo la Prendo solo danno Da quei tizi Allora Questi sono tutti Stra Invisibili L'unica su cui potrei avere vista Buona È Leandra Oh se avanzo di uno qua Ho ancora Copertura parziale Se avanzo qua Sempre Copertura parziale Se vado qua Cavolo No ce l'ho Ok Ah questo Devo fare La retta Per forza Perché là Ci sono fuoco E fiamme Mi sento prendere fuoco Se passa in mezzo Qualcosa Per cui farei Allora Lo faccio indietreggiare qua Gli metto Difesa perfetta E Isabella Stai con Difesa perfetta Va buono E tu Medico Togliti dai piedi Però Se possibile Allora Questi sono messi Malino Mettiti qua dietro Anche tu Non sei messo Benissimo Posso lanciare Per caso Un'altra Lanterna Quei due là Vai Vai Ok Ok Aia No il medico No Me l'ha stordito Ah Quello sta facendo Giurare Dietro E Ma è scemo Ah cerca di andare Di là Allora C'è tutto Che sta precipitando Non è andato Porca miseria Allora Medico cura te stesso Medico cura lui Cura te stesso Non può curare te stesso Ocura lui almeno Ok Qua si prenderà Un bel po' di pizze Ah no Ok Gli ha tolto anche la Buonissimo Ah però Non può fare niente Lo stesso Vabbè Io ci speravo Ehm 42 per copertura Questa Questa Lo tiriamo giù Ok Quello è andato Qua abbiamo 84 Non mi piace tanto Il doppio Perché Cavolo Vai la Ok Allora Questo è attaccato Questo è attaccato Questo è attaccato Muovi qua Allora Così lei si piglia Per forza Un attacco D'opportunità E tu che cavolo fai Ehm Vai qua dietro Come dico Il risolato Lo sta arrivando Siamo ancora tutti e sei Per ora Sì Ma non siamo messi Benissimo Allora Qua Ne hanno ancora Ne restano cinque Porca Tre Di qua Di cui c'è ancora Il dottore Che è una bella Fregatura E gli altri due Leandra E Quello continua A curare Il tizio Però se quello Continua a passare Mezzo Focco e fiamme Aia Ma sei scemo No No Isabela Isabela Ci serviva Isabela No Cavoli E' andato giù anche il medico Adesso Questo riesce a indietreggiare Non tanto Beh ci serve che sia dietro In questo momento Ma le quadra Posizioniamo in modo Tattico Ehm Vai Ah quella non cade Non cade Stordiscilo almeno Quella ha troppa vita Porca miseria Siamo arrivati solo in 4 Contro 5 Oh Gli vado accanto Così almeno Se vuole muovere Se prendete l'opportunità Resto Ma i miei I miei Come sono messi Ehm Non sono messi Per niente bene No 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 Ho un'altra lanterna però No, allora andiamo con questo Ok Preferirei andare contro di lui Ma questo è già sparato, questo è già sparato Questo è già attaccato Eh, tira giù questo allora Facciamo così però, guarda Non vedo potete spostarvi in qualche modo Sì, fate il giro di qua È vero che quelli restano più a tiro Ma almeno C'è il dottore che continua a ristabilire gente a caso Quello non è neanche bruciato Spero che prendesse fuoco Invece no Ce la stiamo proprio rischiando qua Quello è andato ormai Però Il problema è che 28.35, questo quanto danno fa Beh però Stordito per stordito D'ai Proviamo il doppio tiro Ok Cavolo Meglio che niente Meglio che niente Mi vado addosso Me la rischio No Conviene muoverci qua Cercare di seccare il dottore No Però quelli sono Messi male Mi muovo qua Così che se quello si muove qua per attaccare Prende del dan Ah si sta spostando qua il dottore Ok, ottimo Cura quello ma fin intendo che non Tira su della gente Ancora possiamo sopportarlo Allora Vieni qua E dagli al dottore Ok Facciamo tirare giusto dottore Ok Ok dai Dovremmo Avercela Fatta Allora Allora Il suo è che Qualsiasi cosa fa Si piglia l'attacco d'opportunità Ehm Proverei almeno a stordire Quello là dietro Vediamo se si piglia Attacco No Ok Per cui Con questo andrei qua Così che se quello fa degli scherzi Spiglia l'attacco d'opportunità Andiamo così Ok Ok è andato giù ma Agli altri due non gli ha dato l'attacco d'opportunità Porca miseria Allora Non si è messi benissimo No Tu lo vedi bene lui? Si Proviamo il doppio Proviamo il doppio Ok Uno è andato E niente Il secondo manca sempre Proviamo con il doppio qua Ok Cavolo Il secondo manca sempre Oh Clamorosamente Manca sempre Il secondo Andiamo gli addosso È andato comunque Se fosse stato per le lanterre Comostibine Mi sa che non ce l'avremmo fatta Comunque Yes È andata Eh Abbiamo perso di nuovo Delle equipaggiamento E due Sommessi malino La battaglia finisce Altrettanto velocemente Di quanto inizia Più o meno Un attimo E il caos L'attimo dopo Un silenzio angoscioso Cala sul molo I tuoi uomini hanno vinto E solo pochi ribelli Feriti groenti Sono sopravvissuti La battaglia Cerca Leandra Ordina le tue truppe Di portare in salvo I vostri feriti Mentre le truppe di Noriega Catturano nemici Sopravvissuti Mentre esamini Le conseguenze sanguinose Della battaglia Scorgi Leandra Che giace nella polvere Ancora viva Voi Siete qui Per finirmi E mi sa che la secco Meritate un destino migliore? Leandra parla a fatica Premendo la mano a sinistra Su una ferita sanguinante All'addome Mentre la destra Giace inerte Lungo il suo fianco Volevo solo Alzare la testa Fare qualcosa di importante E lasciare Un segno nella memoria E' quello che vogliamo tutti Ma non può avvenire A un prezzo così alto Ho tradito Tutti Mi prego Perdonatemi Tutto ciò che amavo Andato Esteban Esteban Leandra esala profondamente Facendo scacciolire Un gorgoglio Dalla gola E rimane immobile Quindi l'abbiamo Seccata Serve morta lo stesso I tuoi uomini Recuperano dai cadaveri Tutti gli oggetti Utili L'occupaggiamento Che possono E si apprestano A tornare verso la piazza Del mercato Dove non riega Ti sta aspettando 600 tesori E 10 di equipaggiamento Non male Ok 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 Adesso abbiamo un pochettino Più di equipaggiamento Ma abbiamo Tutti Tutti Messi male Praticamente Va bene Salviamo qua E Io vi invito A lasciare un mi piace A iscrivervi al canale Se per caso Non l'aveste Già fatto Ehm Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Expeditions Conquistador Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Noi ci vediamo Guide Joe La Buona giornata La S Par